Noi siamo della Quinta F, dei Galvani Iodi e stiamo andando a Cracovia per i viaggi della memoria. Io vengo dall'Istituto Scoruffi e Leviticolore, faccio la classe Quintelle dell'Istituto RIM e stiamo per partire per il viaggio della memoria. Mi aspetto di divertirmi ma anche sarà un viaggio formativo perché potremo ricordare insieme quello che è successo per evitare che succeda ancora. Buon viaggio! Grazie! Buon aiutino! Sotto ragazzi di design! Comando!